Si intensifica l'attività di controllo da parte della Polizia Provinciale di Egrigento finalizzata all'accertamento e alla repressione degli illeciti in materia ambientale. È stata infatti eseguita dagli agenti del Corpo di Polizia del Libero Consorzio di Egrigento, coordinati dal Tenente Colonnello Vincenzo Giglio, la sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Tribunale di Egrigento nei confronti del titolare di un frantoio oleario a Favara. Un traguardo per il Corpo di Polizia dell'ex provincia. Si tratta, sottolinea Giglio, del primo caso in provincia di Egrigento di confisca di un'area a servizio di un frantoio oleario. I fatti contestati risalgono al novembre del 2015, quando una segnalazione della società gestore del depuratore comunale, che denunciava continui ingressi anomali di acque di vegetazione presso l'impianto di depurazione in Contrada Burgilamone nella comune di Favara, fece scattare l'ispezione del gruppo Interforce di Polizia Provinciale dell'ARPA, al fine di accertare eventuali scariche non autorizzati in pubblica fognatura. In tale contesto l'ARPA procedeva a effettuare il prelievo dei campioni d'acqua nel pozzetto di ispezione adiacente il frantoio e nello stesso tempo veniva immesso in seguito la florescenza sodica tracciante per individuare il percorso e verificare se il pozzetto fosse collegato o meno alla pubblica fognatura. L'accertamento aveva prodotto esito positivo poiché il tracciante giungeva a valle in un canalone scatolare in cemento distante circa 400 metri dall'affrantoio a cielo aperto, miscelandosi con le acque della pubblica fognatura, così come verificato dal personale dell'ARPA. Il Tribunale di Agrigento, a certati fatti, ha dichiarato colpevole l'imputato del reato che gli è stato scritto e lo ha condannato a sei mesi di arresto a 3.000 euro di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali ed ha ordinato la confisca di un'area di circa 150 metri quadrati e alcune cisterne la sospensione della pena. Il personale della Polizia Giudiziaria della Polizia Provinciale, dopo aver proceduto alla notifica della sentenza dell'imputato, ha proceduto alla confisca dell'area di tre cisterne ed ha affidato i beni sottoposti a confisca al Comune di Favara, nominando inoltre un custode giudiziario nella persona del dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale per la custodia di quanto confiscato. Il danno prodotto da questa illecita pratica di sversamento di acqua e di vegetazione dei frantoi nelle condotte cittadine dei refli fognari ha recato notevole danno al depuratore a ciclo biologico come quello di Favara, che depura l'acqua attraverso batteri e microorganismi demolitori che degradano le sostanze di rifiuto trasformandole in composti minerali. L'acqua di vegetazione presente nelle vasche di areazione invece crea una patina oleosa che non fa passare l'ossigeno per cui i batteri muoiono e non depurano più. Per il ripristino di ciclo di vita dei batteri necessitano da 4 a 6 mesi durante il quale il depuratore non svolge la sua funzione primaria di depurazione e quindi si ha un inquinamento dell'ambiente circostante.